Buongiorno a tutti i principianti, oggi nuovo video Leg Day, grazie ancora per tutti i commenti che sono arrivati su Instagram, su Facebook e sotto l'ultimo video di YouTube, veramente grazie. Alcuni si potranno chiedere ma perché faccio continuamente video su YouTube, video su Instagram dove cerco di portare il mio know-how a tante persone, a tanti ragazzi e ragazze che mi guardano. Semplicemente perché voi sapete che ho un servizio che si chiama Online Coaching, seguo persone, seguo persone online, seguo persone anche dal vivo, quindi principalmente sono un coach. E quindi oggi con voi volevo parlare un po' del ruolo del coach, su come dovrebbe essere un coach e perché lo si dovrebbe scegliere. A mio avviso la cosa principale del coach è che semplicemente non deve millantare nulla, quindi io potrei mettermi tranquillamente davanti alla telecamera, non far mai vedere come mi alleno, come mi muovo, non postare mai foto, semplicemente andare avanti col mio viso, con le mie immagini, col mio know-how e sicuramente avrei un discreto successo perché magari so quello che dico, so come parlo, so perché lo devo dire, però semplicemente andrei a millantare perché ci sarebbe sempre un muro tra me e chi mi guarda, non farei mai vedere come mi alleno, non farei mai vedere che tecniche allenanti uso e come le uso, come posso mettere i piedi durante un esercizio, come posso spingere, come posso respirare, come posso mettermi con la testa, tutto quelle che sono le sfaccettature durante un allenamento. Quindi per questo è il vero motivo per cui io faccio i video, non tanto per darvi la schidina gratuita che vedrete all'interno di questo video, semplicemente per provare a non crearmi un muro che sia tra me e voi. Quindi prima regola non deve millantare, non deve mai creare un muro tra quello che è il ruolo del coach, appunto è il ruolo del cliente, il ruolo del collaboratore che deve assorbire tutte le informazioni. Ancora cosa più importante deve essere autorevole, cioè non autoritario, non un dittatore, autorevole, deve sapere quello che dice, punto. Il discorso è molto semplice, io magari posso non sapere tanto di tantissimi argomenti, ma se una persona mi dà del materiale, mi dà qualcosa da leggere, mi dice guarda ti do un'ora, mi fai un riassuntino e me lo esponi. Sicuramente io, che ho una buona capacità di lettura, una buona capacità di apprendimento e una buona capacità di arrivare alle persone che mi ascoltano, saprei dire qualcosa, saprei dire anche molto di quello che ho letto. La cosa principale però sarebbe che chi veramente conosce la materia, chi conosce l'argomento direbbe sì ok, ha fatto il compitino, ma fondamentalmente non ne sa. Un buon coach non ha paura di ricevere domande, di ricevere critiche, di ricevere diciamo domande puntigliose sull'argomento, anzi il più delle volte amplia ancora il suo ego, perché può dire tutto quello che sa, può spiegarsi in maniera intelligente, può dar prova a se stesso e anche agli altri di conoscere bene la materia, di avere un buon ragionamento sulla stessa e del perché si fanno alcune cose rispetto ad altre. Quindi essere autorevoli vuol dire semplicemente conoscere la materia e questo ragazzi, prima di tutto lo si deve imparare, ma traspare, perché le persone, anche se non credono di averlo, ma hanno un grandissimo sesto senso. Quando una persona non sa una cosa, ve la spiega, sta sempre un po' sul suo, non vuole mai rispondere alle domande, non vuole mai rispondere alle critiche, vuol dire che semplicemente la cosa non la sa. Altra caratteristica principale di un buon coach deve essere giusto, ma giusto nei confronti di chi? Né nei propri confronti, né nei confronti del collaboratore, o per meglio dire, deve essere giusto nei confronti del collaboratore che in un momento di entusiasmo, che in un momento di forte volontà ha espresso un obiettivo. Mi spiego meglio. Arriva da me un ragazzo, dice guarda Filippo basta, ho preso in mano la mia vita, voglio gareggiare, voglio vincere, voglio arrivare, voglio percorrere questo obiettivo per arrivare finalmente al risultato finale. In quel momento si attua una strategia, si attua un piano alimentare e di integrazione e di allenamento. E deve essere dritto, deve andare verso l'obiettivo, ok? Ci può stare e sicuramente ci sarà un momento di arresto, ok? Di momenti difficili, dei momenti dove magari non si riesce ad andare avanti e il coach magari in maniera giusta potrà dare degli aggiustamenti di farlo allenare un filino meno, di farlo mangiare leggermente in maniera diversa, ma arriverà un punto che un buon coach, il quale non gli interessa la sola vendita, la mera vendita, non gli interessa vedere la persona che dice grazie, ma gli interessa che il ragazzo arrivi veramente all'obiettivo, dovrà dire la parola più importante di tutte, la parola no. No. Posso fare un cheat meal in più? No. Posso allenarmi meno? No. Posso semplicemente gareggiare e non lo vede ancora in condizione di farlo? No. Un buon coach fa questo. Più no diciamo, più siamo bravi. Meno no diciamo, più viziamo. Sì, forse avremo un risultato a medio, breve termine, ma sul lungo periodo perderemo tutte le persone davanti a noi, perché semplicemente loro torneranno in auge, torneranno vogliosi e vedranno che chi doveva motivarle, chi doveva spingere, chi doveva tenere bello forte il fuoco sotto il loro bracere, non lo è stato. Non è stato un buon direttore d'orchestra, è stato semplicemente una persona al quale non gli fregava niente, sì, mangia una pizza in più, non allenarti, fai tanto ma hai già pagato. Così non fa un coach. Un buon coach deve essere giusto nei confronti dell'obiettivo, né nei propri, né nei confronti dell'altra persona. Spesso quando c'è, diciamo, l'incontro fatidico, principale, la prima volta tra il coach e il collaboratore, ma l'incontro può essere anche, e il più delle volte, è via, diciamo, via web, via telefono, via Skype, non un contatto diretto, ma un contatto empatico, che è la cosa più importante, si attua sempre un obiettivo. E io dico spesso che il coach non lo si cerca, il coach lo si trova durante il proprio cammino, perché in base a tutti i setacci, tutto quello che abbiamo tolto che non ci piace, quel tipo di allenamento, quel tipo di dieta, quel tipo di obiettivo, allora rimangono piano piano le persone che vediamo vicino a noi. Avere un coach che ha i tuoi stessi obiettivi, che però è sempre pronto a darti una motivazione in più, a prenderla anche lui stesso da te, perché no? Questa è la cosa principale. Quindi la cosa più importante, diciamo, è far capire bene alla persona che vi allena cosa volete, ok? Quando voi dite, io voglio avere un corpo muscoloso, voglio avere un corpo magro e tonico, nella vostra mente vi vengono in mente immagini. Non vi viene in mente voglio un corpo muscoloso, viene in mente l'immagine del corpo muscoloso. Questo cosa vuol dire? Che le immagini producono, ed è scientificamente provato, sinapsi. Le sinapsi producono emozioni, le emozioni producono risultato, ok? Quindi far capire all'inizio, all'inizio del percorso, quello che veramente si vuole, senza paure, come se fosse un mero confessore, che vi deve solamente far sbocciare, ok? Da bruco farlo diventare a farfalla. Quella è la cosa più importante. Far ragionare per immagini compatibili. Allora lì sì che le emozioni saranno le stesse, e si potrà instaurare un rapporto coach-collaboratore, perché non è mai un mero cliente, produttivo, efficiente ed efficace. Questo è il motivo perché io non faccio solo video parlati. Ne avrei da fare da qua, e ne farò per i prossimi anni. Però ogni tanto io qualche video di allenamento, lo debbo mettere. Non il classico video, fai 5 serie, fai 6 serie, fai 7 serie, perché ragazzi, quelli sono video sterili. Sono video che lasciano del tempo che trovano, ok? Io lo faccio per far vedere che anch'io lo sto facendo. Anch'io mi sto allenando. Anch'io sto facendo fatica. Mi fa male il ginocchio. Come devo fare? Devo astuare un'altra strategia. Mi fa male la schiena perché ho dormito male. Il materasso mi faceva male. Il cuscino mi ha dato fastidio. Ho preso freddo in macchina. Tutte le sfighe della giornata ricadono poi nell'allenamento. Sempre col bicchiere mezzo pieno. Sempre con un buon stato d'animo. Però devo far vedere anche a voi che io stesso sto facendo il vostro percorso. Solo in questo modo voi vi sentirete veramente, diciamo, guidati da qualcuno. Non un classico capo che dice sì, fai lo squat, sì, fai la panca, e poi non lo fa. Un leader fa e ti guida. Un capo ti dice le cose senza averle mai fatte, senza averle mai provate e senza sapere le sensazioni e le emozioni che in quel momento tu stai provando. Quindi alla fine, ragazzi, ci sarà sempre una disparità, una dicotomia tra quello che volete voi e quello che vuole lui. Quindi scegliete bene o per meglio dire, come ho detto prima, trovate il coach che ha l'identità uguale alla vostra. Io spero che questo video di oggi vi sia veramente piaciuto. Continuate, mi raccomando, mi raccomando, chi non gli piace tolga il follo, faccia un follo, spacchi il computer, faccia quello che vuole. Chi invece, diciamo, mi reputa una persona da conoscere e da continuare a seguire, attivi subito la campanella ed ovviamente si iscriva al canale. Ogni venerdì, nuovo video, anticipazione, stiamo lavorando per un secondo video YouTube. Stiamo lavorando, vuol dire che è già tutto pronto, ma me la sto un pochino tirando, però mi raccomando, ricordatevi sempre di iscrivermi al mio canale di YouTube, seguirmi su Instagram, su Facebook e ovviamente fatemi tutte le critiche del mondo, specialmente voi haters, perché vi aspetto sempre con un grande sorriso. Grazie ancora e colgo l'occasione per farvi un felice augurio di buon Natale e buon anno. Grazie a tutti.